11 paesi bergamaschi per un numero complessivo pari a circa 25.000 abitanti andranno al voto domenica 26 e lunedì 27 maggio per il rinnovo delle amministrazioni comunali. 9 dei comuni bergamaschi votano a scadenza naturale mentre i due per scioglimento anticipato dell'amministrazione. Tutti i comuni interessati alla tornata hanno meno di 15.000 abitanti, il più grande Capriate San Gervasio che a censimento 2011 ne contava 7.777 mentre il più piccolo è Piazzolo con 84 abitanti. Le nostre attenzioni sono indirizzate a tre comuni in particolare, sono Casnigo, Pianico e Villadogna. A Casnigo, centro della Val Gandino, due le liste in corsa, nuova proposta candidato sindaco Giovanni Aiazzi, contrapposta insieme per Casnigo che candida Agostino Macalli. Tre gli schieramenti presentati a Pianico, Pianico nel cuore, candidato sindaco Clara Sigorini, cittadini protagonisti con sindaco Fabio Barcellini e Pianico siamo noi, candidato alla poltrona di primo cittadino Salvatore Greco. Due le liste a Villadogna, svolta democratica Villadogna, candidato sindaco Angela Bellini e Fantoni sindaco, candidato Attilio Fantoni. Nella maggior parte dei comuni aerobici si tratta di una sfida a due o al massimo tre, eccezione fatta per Aviatico, Piazzolo e Calolzio Corte, contesi da ben quattro liste ciascuno. Contano le idee, certo, ma qui sotto i campanili valgono ancora di più le persone.